Barsanti e Matteucci, i pionieri dimenticati del motore a scoppio, il motore a scoppio, che ha rivoluzionato il mondo dell'automobile e dell'industria, è spesso attribuito al tedesco Nikolaus August VIII, che lo brevettò nel 1877. Tuttavia, molti ignorano che l'idea originale di questo tipo di motore fu concepita realizzata ben 14 anni prima da due ingegneri toscani, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. Eugenio Barsanti nacque a Pietrasanta, l'U, il 12 ottobre 1821 da una famiglia di scultori. Fin da bambino mostrò una grande passione per le scienze e la matematica, e a 17 anni decise di entrare nell'ordine religioso dei padri scolopi, cambiando il suo nome in Nicolò. Insegnò fisica e matematiche in vari collegi, tra cui quello di San Michele a Volterra, dove ebbe l'intuizione di trasformare l'esplosione di una miscela di gas in energia meccanica. Felice Matteucci nacque a Lucca il 12 febbraio 1808 da una famiglia di avvocati e politici. Si laureò in ingegneria idraulica a Pisa e si dedicò allo studio delle macchine a vapore e alla costruzione di canali e dighe. Nel 1847 conobbe Barsanti a Firenze e iniziò con lui una fruttuosa collaborazione scientifica. I due ingegneri progettarono e costruirono due prototipi di motore a scoppio, basati sul principio della combustione interna in un cilindro. Il primo, del 1853, era alimentato da una miscela di idrogeno e aria, mentre il secondo, del 1856, usava una miscela di benzina e aria. I due depositarono i loro brevetti in diversi paesi europei, tra cui Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, e fondarono la società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci, i loro motori suscitarono l'interesse di vari industriali e scienziati, ma non riuscirono a ottenere il successo commerciale sperato. Barsanti morì prematuramente di tifo nel 1864 a San Pietroburgo, dove si era recato per assistere alla costruzione di un motore da quattro cavalli. Matteucci continuò da solo la sua attività, ma dovette affrontare la concorrenza sleale e la copia dei suoi brevetti da parte di altri inventori, tra cui Otto. Nel 1877, quando Otto ottenne il riconoscimento ufficiale dell'invenzione del motore a scoppio, Matteucci tentò in vano di rivendicare il primato dei suoi studi con Barsanti, ma non fu ascoltato. Cadde in depressione e morì nel 1887 nella sua villa a Vorno, in provincia di Lucca. Barsanti e Matteucci sono stati due geni dimenticati della storia dell'ingegneria, che hanno anticipato di molti anni la nascita del motore a scoppio, una delle invenzioni più importanti dell'era moderna. La loro opera merita di essere ricordata e valorizzata, come testimonianza del contributo italiano alla scienza e alla tecnologia.